Attenzione! Goal! Goal! Goal di Dino Baggio! Goal di Dino Baggio! Siamo in vantaggio al ventitraesimo del secondo tempo. Dino Baggio beffa i giganti della Norvegia e mette dentro il gol. Passaro è il gol! Vai Providenza! Goal di Passaro! Passaro slocca la situazione dopo due minuti del secondo tempo. Ancora una iniziativa. Attenzione! La palla è per Baggio. E gol di Roberto Baggio al quarantatresimo del secondo tempo. Si prolunga il duello fra i due e poi l'inserimento per Dino Baggio che è un buon tiratore. Parte il suo tiro! E che gol! Grandissimo gol a Dino Baggio! Berfi, il lancio è per signori. Signori da quest'altra parte per Roberto Baggio. Roberto Baggio salta e segna! E segna Roberto! E segna Roberto Baggio al quarantaduesimo del secondo tempo. Grazie!